Uno dei workshop che ci è sembrato più interessante da proporre è il workshop che ha guardato alle competenze sociali, emotive ed etiche degli studenti. Un workshop che ha presentato ai docenti il curriculum C-Learning, che è stato sviluppato negli Stati Uniti e che guarda a come gli studenti possono prima di tutto comprendere come stare con se stessi, quindi autoregolare le emozioni, lavorare sul lessico anche delle emozioni, sulla gentilezza. L'aspetto poi sociale, quindi come stare con l'altro, comprendere il punto di vista, comprendere le emozioni degli altri, dei compagni, costruire una classe inclusiva e terzo tassello, l'aspetto etico, le competenze etiche, come costruire un mondo migliore, come prendersi cura della nostra terra e di tutti gli esseri viventi. Quindi molto interessante perché i docenti e i dirigenti ci hanno detto che c'è molto bisogno di questa proposta nella scuola, soprattutto costruirla in verticale, dai bambini piccoli quindi fino ai grandi. Ecco, questo veramente è un tassello molto importante per la crescita di futuri cittadini e per un mondo ovviamente di pace e di serenità.